Ciao ragazzi, la Billen è ancora qua, anche nella stagione 2019-2020 e per fortuna, dato che ogni anno fa felici migliaia di rider che vogliono una tavola da freestyle veramente versatile e capace di cavarsela in tutte le situazioni. Il flex è molto molto easy, molto divertente per appunto cazzeggiare sulle strutture, magari fare qualche curva in pista, qualche ingresso in neve fresca a bordo pista. Il profilo non è cambiato, è un rock out camber, flat rialzato in centro a simulare il camber tradizionale, riuscendo a risultare però più facile e più gestibile. Rocker in punta e coda per aumentare la facilità di manovra e la correzione di eventuali piccoli errori. Il Core è una Spence Select, ottimi legni, molto molto leggeri, con tecnologia Popster, quindi più spessa nelle zone interessate, nelle zone di stress, più leggere nelle zone esterne per avere più reattività, più leggerezza generale della tavola, a tutto vantaggio della facilità e della longevità del vostro riding, sostanzialmente vi stancate di meno. Alla tecnologia Popster viene aggiunto il booster, che sono delle Y in carbonio, in punta coda, fatte apposta per trasmettere il vostro impulso, il vostro peso, direttamente dall'attacco ai punti di contatto sulla neve. Aumentano la tenuta della tavola e la sua reattività parecchio, senza appesantirla dal punto di vista del flex, quindi mantenendo la sua facilità di utilizzo, la sua assoluta intuitività nel tentare qualche manovra nuova, nel consolidare quelle che sapete già. Soletta sinterizzata, rifinita pietra, super veloce, super robusta, fianchetti in gomma ammortizzanti, stabili, riescono a rendere il riding molto confortevole, a occuparsi degli urti in atterraggio dei salti, delle strutture, insomma un pacchetto veramente a 360 gradi, fantastico. L'aggiunta, un paio di stagioni fa, della sciancratura Quadralizer, ha aumentato la tenuta in pista, la facilità in inserzione e uscita di curva, per spingere davvero anche magari nel soft carving e qualche manovrino in conduzione, rendendola davvero una tavola super completa. Chiaramente di indirizzo freestyle, ma se la cava benissimo in tutte le altre situazioni. Se avete qualche curiosità extra, direi che l'abbiamo trattata più che bene, ma se avete qualche domanda in più scriveteci qua sotto per email o sui canali social. Se la volete provare, restate sintonizzati con i nostri eventi sul sito, sicuramente ci sarà in qualche data, date solo un'occhiata quando appariranno gli aggiornamenti. A presto, boom!